Il prossimo brano è sempre The Cream e risponde al tiro di Outside Woman Blues. Grazie! 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 ухio, practise! Un buganno blu che batte le mani a tempo important relativo mostro al giro, per favore. Tutti insieme, yes, grandi! Ad quelli non rimane questa solo… una solo dell'uomo! Professor Blu! A voi mister Nicola Panti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.